Buongiorno ragazzi e benvenuti qua con un nuovissimo video, oggi siamo tornati su Minecraft, il momento che tutti voi aspettavate L'IPM di Mare Fuori è finalmente completo e come avete detto dal titolo ragazzi oggi siamo qui con i provini, con il cast per entrare a far parte di questa serie Innanzitutto un bel pollice in su, mi raccomando sostenete questa serie, abbiamo tantissime novità ragazzi quest'oggi Innanzitutto abbiamo finito tutti gli interni che adesso andremo a vedere molto rapidamente ma la cosa bella ragazzi è questa qua Che chi viene a far parte del mio server dell'IPM abbiamo introdotto la chat vocale come se fosse un Minecraft RP Ovviamente tramite Discord ed è veramente veramente fatto bene ragazzi perché se io incontro uno di voi abbiamo 5 blocchi di distanza per parlare Cioè se noi ci avviciniamo di 5 blocchi parliamo e ci sentiamo, appena ci allontaniamo di 5 blocchi non ci sentiamo più Proprio come se fosse tutto realistico, così che se c'è un gruppo di ragazzi laggiù non lo senti, laggiù neanche, senti solamente quelli vicino a te Proprio come nella vita reale Per sapere come entrare, come si installa questa cosa qua della chat vocale, tutti i vari tutorial e informazioni trovate nel mio canale Discord Quindi è fondamentale essere dentro al mio canale Discord che trovate il link in descrizione Vi ricordo che siamo anche in live sul sito Viola trasmettendo il Minecraft RP Marefuori Sempre link in descrizione Infermeria, eccola qua, con i vari lettini eccetera eccetera Andiamo 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 Entriamo qua e vediamo i doni dei parenti dove vi ricordate mettono i soldi nel conto dei ragazzi eccetera eccetera Salendo di qua gli uffici delle guardie, dei poliziotti Salendo qua la stanza invece della direttrice, barra direttore, dipende poi chi lo farà Eccolo qua, guarda qui che bella, eccola qua Col muro vetrato proprio come è nella serie Andiamo avanti, ovviamente vi faccio vedere un po' tutto alla svelta raga Ok, entriamo nel palazzo a fianco e troviamo ragazzi la mensa Eccola qua Ovviamente qua il pranzo staff dove staranno sempre i poliziotti eccetera eccetera Qua i detenuti E ovviamente dietro ci sarà, c'è la cucina Eccolo qua, bravissime Andiamo a fianco, andiamo a fianco e troviamo la classica stanza Dove vi ricordavate le ragazze si truccavano, leggevano i libri E coi divanetti, la loro tipo stanza relax che stavano tutte Eccola qua E iniziamo con le celle dei maschi Innanzitutto qua troviamo la zona rifiuti dell'immondizia Saliamo dalle celle dei maschi Il classico corridoio che già avete visto Andando a destra troviamo il tetto Comunque tutti i cartelli sapete dove vi portano E qua vi porta al tetto dove sono successe tutte le brutte cose Andando dritto poi ovviamente ci sono le varie celle, colette di castello, il bagno dietro Eccolo qua Ovviamente non sto a farvele vedere tutte perché poi sono tutte uguali proprio come la serie E andiamo subito a cambiare edificio Questo abbiamo fatto un po' tipo magazzino, garage, anche qui vedete un po' dettagliato dentro Non è proprio una vera e propria stanza che porta al di fuori qua sopra Questo l'abbiamo vista Manca questo tutto palazzone con la strada del pianoforte E poi dietro gli isolamenti Andiamo subito Qua ragazzi troviamo le docce Guarda qua Proprio con i lavandini in mezzo Le docce E dove appoggiavano il tutto che si cambiavano Uscendo dalle docce troviamo invece le celle delle femmine Eccole qui Andiamo anche loro Classico corridoio lungo Con le celle, letto, castello eccetera eccetera E' inutile che rientriamo le abbiamo già viste dai maschi Sono uguali Ma andiamo Mi raccomando ragazzi un bel pollice in su per questa mega serie Entriamo qua dentro E qua ragazzi abbiamo la sala delle visite Vedete? Qui la segreteria E qua la sala delle visite Dove i detenuti magari aspettavano la visita del papà E arrivava non so la moglie Vi ricordavate? Teniamoci la sala del pianoforte per ultima Qua ovviamente tutto dettagliato Si sale E come leggete isolamento E abbiamo le prime celle Eccole qua Molto belle Sia di qua che di là Si sale E troviamo altre celle Sia di qua che di là Si risale E anche qua Due celle Avevamo ancora spazio sopra E abbiamo fatto un piccolo Una piccola dispensa Dai magari qua ci metterò chest Se mi servono oggetti E di là uguale E la stanza anche un po' più significativa Perché andiamo a vedere ora dove Chiattillo Dove Filippo Una tizia E tutti quanti Suonavano il pianoforte Ballavano E facevano tutte quelle cose lì Ok Finiamo il corridoio Ci giriamo E vediamo Sala Pianoforte Eccoci qua Apriamo la porta Ragazzi Ed eccola qua Proprio con l'arco E guardate Il pianoforte So che il pianoforte Era nero Però non c'erano Blocchi Da poter farlo nero Ma va benissimo Così ragazzi È bellissimo E ovviamente Non può mancare Tutte le varie magari Macchinette Vi ricordate la musica Con la cassa I tavolini I divani Il biliardino Tutte le varie cose Guardatela qua Questa stanza molto molto bella Dove poi anche qua All'interno magari Si ritroveranno Maschi e femmine E questo ragazzi È un po' Il tutto Penso di non essermi Dimenticato niente Questo l'abbiamo visto Questo l'abbiamo visto Il dietro l'abbiamo visto Questo anche Il pianoforte anche Questo anche L'infermeria anche Là ovviamente È tutto Il molo dietro Vedete Abbiamo sistemato Anche tutta la strada fuori Eccetera eccetera Come sempre Vi aspetto su discord Se volete venire a giocare Vi aspetto soprattutto In live sul sito viola Che vedrete anche I gameplay E tutto il resto Ragazzi Lasciatemi un bel pollice in su Mi raccomando Per sostenere questa serie Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Attivando la campanella Mi raccomando Noi ci vediamo con un prossimo video Bella a tutti ragazzi